Un posto al sole ipotesi nuove puntate, Rossella chiede a Nunzio di lasciarla in pace. Inoltre, non è impossibile che Rossella voglia restare sola senza il suo partner al suo fianco nel prossimo episodio della SOP. La prossima puntata di Un posto al sole è prevista in prima serata su Rai 3, quindi non è da escludere che Rossella chieda a Nunzio di lasciarlo in pace. Dopo l'annullamento del matrimonio con Riccardo, la ragazza cominciò a dubitare della sua vita, anche se lo chef del caffè Vulcano non aveva intenzione di mollare così facilmente. E a questo punto, la figlia di Silvia potrebbe sentirsi molto repressa e chiedergli di lasciarla per un po' per esprimere i suoi sentimenti. Rossella si divide tra Nunzio e Riccardo le anticipazioni delle nuove puntate della fiction, in programma fino al 29 marzo. Mostrano che Rossella attraversa uno dei periodi più difficili della sua vita, durante il quale deve fare i conti con l'impazienza di Nunzio. Parla con lei il prima possibile. Lo chef si rende conto che dietro l'annullamento del matrimonio della ragazza e di Riccardo c'è la sua mano e gli splendidi eventi vissuti insieme nella fatidica notte dell'addio al nobilato. Pochi giorni dopo, Rossella non riuscì a dire di sì in chiesa, e i suoi piani per una vita con Clovi furono rovinati. I due erano ad un passo dal baciarsi. Rossella chiede a Nunzio di lasciarlo in pace, ipotesi un posto al sole nuova proprietà non è inoltre escluso che nelle prossime puntate della telenovela Rossella si ritroverà estremamente confusa e non avrà le idee chiare né sulla sua vita sentimentale né sul futuro. La confusione potrebbe essere ulteriormente acquita dalle azioni di Nunzio, che non ha voluto tirarsi indietro e ha continuato a essere presente nella vita della ragazza, costringendola a reazioni inaspettate. Nel mezzo di questa grave crisi che sta vivendo, non è impossibile che Rossella chieda a Nunzio di lasciarla in pace e di accettare e rispettare i suoi tempi. Solo così la ragazza potrà stare in pace con se stessa per un po', schiarendosi le idee e sperando di capire se Nunzio è davvero la persona con cui vuole costruire una relazione. Oppure se sia ancora possibile ricucire il rapporto con Riccardo. I fan criticano l'assenza di Rossella al matrimonio e intanto l'episodio del matrimonio fallito di Riccardo e Rossella all'interno della soap non ha convinto del tutto i fan dei social. Molti sostengono che il fatidico giorno di Gesù in chiesa si sarebbe potuto evitare, e che gli sceneggiatori avrebbero dovuto permettere a Rossella di essere onesta con Clovi senza ingannarlo fino alla fine. Tuttavia, alcuni sottolineano che i matrimoni nelle soap opera non hanno mai avuto un lieto fine da tempo.